Insomma, chi si aspettava una resa dei conti è stato accontentato. La direzione regionale del Partito Democratico Toscano di ieri sera ha messo in evidenza che la frattura tra le due ali del partito, quella degli zingarettiani e quella dei riformisti fedeli al segretario a Bonafè, è più profonda che mai. Il solco nasce all'indomani di un'intervista in cui la segretaria toscana ha avanzato la proposta di un congresso per definire la linea dei dem, soprattutto rispetto alla possibile alleanza strutturale con l'EU e i 5 Stelle. Il giorno dopo però fu il suo vice, Valerio Fabiani, fedeli al segretario nazionale, ad attaccare direttamente Bonafè. Il contrasto non è stato risolto e la dirigenza ha chiesto agli zingarettiani di indicare un nuovo nome per la vicepresidenza perché Fabiani sarebbe stato rimosso. Tutto ciò doveva essere chiarito e sanato ieri sera, ma l'ala dissidente ha boicottato la riunione senza presentarsi e inviando un comunicato stampa. La segretaria regionale Bonafè si sta accingendo a cambiare la segreteria senza avere mai aperto un confronto, si legge. A queste condizioni è evidente che non possa proseguire, per suo volere, nessuna gestione unitaria e che pertanto le nostre rappresentanti e i nostri rappresentanti non possono far parte del nuovo esecutivo del partito regionale. La replica la accena tra i denti un dirigente. Bastava facessere un nome al posto di Fabiani, mettere la testa sotto la sabbia non serve a niente, dice. E ancora, non si capisce perché chiedere una discussione interna, anche un congresso, porti a reazioni così scomposte. Siamo ancora il partito democratico o no? Le posizioni apparentemente sono inconciliabili, ma gli effetti della contesa toscana non sono certo finiti. Primo, perché potrebbero ripercuotersi sulla giunta regionale e sul presidente Gianni, che ad esempio puntava sull'unità del partito per cambiare lo statuto e aggiungere un nuovo assessore. Secondo, perché in realtà ciò che accade in Toscana è il preludio dello scenario nazionale e addirittura c'è chi, con un po' di malizia, vede nel radicalizzarsi dei toni proprio la volontà di spingere la discussione fuori dai confini regionali. Un desiderio che peraltro sarebbe anche legittimo, visto che la Toscana centrale contiene le federazioni del PD tra le più forti d'Italia in termini di voti e tuttavia completamente assenti dalla compagine di governo e scarsamente rappresentate al Nazareno.